I li ho visti con i miei occhi stanno là ad aspettare l'ultimo autobus e sono invitati dei nostri agenti a salire in autobus e tante volte magari cercano la linea piuttosto che le navette e questo ovviamente incide anche sui tempi di arrivo alla scuola. Ha smesso i panni di presidente per confondersi con i pendolari che ogni giorno montano sugli autobus e trasformato quasi in 007 del trasporto pubblico ha finalmente capito perché nonostante i calcoli continuasse a ricevere lamentelle sui servizi scolastici. Noi abbiamo parecchi protesto telefonati dai genitori e ogni volta noi andiamo a verificare diciamo che abbiamo assestato tantissimo ma insomma c'è anche un problema che gli studenti devono gioco a forza a darci una mano e salire sui primi autobus non sugli ultimi. Insomma altro che autobus sottostimati e corsi affollate sono i ragazzi che aspettano l'ultima corsa utile per poi accalcarsi pur di arrivare a scuola e questi sono stati gli inviti del personale quotidianamente dislocato sulle principali fermate. Che non prendano l'ultimo autobus perché l'ultimo autobus magari arriva appena appena nell'orario previsto con la scuola e quindi magari succede che c'è qualche intoppo di circolazione e quindi si arrivano in ritardo. Il sospetto è che molti ragazzi puntino a saltare giustificati la prima o le prime ore di lezione. Per questo Collardone vuole andare oltre così manderà tra gli studenti dei suoi agenti speciali per eliminare il problema nei luoghi e soprattutto nelle scuole dove i ragazzi si attardano maggiormente. Sono degli agenti accertatori che vanno a verificare i flussi e quindi vanno a verificare anche i carichi degli autobus.